Mi chiamo Vittorio, qualcuno mi ha già visto, anche oggi come gli altri anni vi parlo di Quikr. Sostanzialmente affrontiamo tre temi, vi racconto un po' di storia, che cos'era, che cos'è, che cosa diventerà. Cerco di spiegarvi un attimino quello che c'è dietro Quikr, quello che sono riuscito a capire negli anni in cui ho provato a lavorarci e spero di stimolarvi la fantasia con quelle cose che vi presenterò come personalizzazioni che sono state fatte specialmente in un ambito di poter utilizzare l'infrastruttura Quikr in un mondo mobile. Quikr, come altri prodotti Lotus, IBM, ha ormai una decade di anni alle spalle. Credo che sia uscito nel 99 e nel 2000. Non si chiamava Quikr, si chiamava Quikplace. Credo che per i tempi in cui è uscito fosse un prodotto particolarmente rivoluzionario perché già a quei tempi permetteva di creare con pochi clic un'area su web da poter mettere a disposizione gli utenti aziendali e all'interno della quale condividere facilmente documenti, fotografie, immagini, tutto quello che poteva essere utile al loro lavoro utilizzando un browser, utilizzando una connettività internet, pensando questa cosa al 2000 non era banale. E specialmente tutto questo si poteva creare banalmente con un clic, quello che continua a chiamarsi Place esisteva anche in Quikplace e all'interno del Place condividevo facilmente le informazioni. Ho fatto un banale copia in colla da una slide datata, ma questo per farvi vedere l'evoluzione che ha avuto il prodotto negli anni. Nel 2007 IBM ha deciso di fare una particolare rivoluzione e a sottolinearlo anche il cambio di nome. Da Quikplace il prodotto si è chiamato Quikr. In realtà la versione 8.0 non era una grossa rivoluzione, diciamo che IBM l'aveva in mente, ma ancora non era riuscita a tradurla in realtà. È passato qualche anno, è uscito nel 2009 la versione 8.2 e esistono in realtà due versioni di Quikr, chiamiamoli così. Quikr for WebSphere, non ve ne parlo oggi, Quikr for Domino è invece la cosa che oggi approfondiamo. Dopo la 8.2, l'anno dopo è uscita la 8.5, che finalmente è stata rivoluzionaria come IBM aveva già raccontato. Un prodotto Web 2.0, nel senso che finalmente tutta la logica di interazione, di interfaccia era spostata completamente sul browser, il server serviva solo come logica di back-end, mi metteva a disposizione i dati, mi permetteva di poterli reggere, la parte applicativa e di controllo veniva gestita sul client. Ad oggi abbiamo qualche limitazione, nel senso che IBM ha subito, ha rallentato un po' rispetto a quelli che erano i tempi che aveva mantenuto fino all'anno scorso. Oggi siamo arrivati ad avere una versione 8.5.1 con un fix pack 28, quindi comunque qualche cosa IBM ne ha fatti 28 nel tempo, ha continuato a rilasciare. In ogni fix pack in realtà non si andavano solo a risolvere dei problemi, ma sono state anche messe a disposizione delle nuove funzionalità, piccole, circoscritte, ma comunque qualcosa è sempre stato rilasciato. Ed è necessario in questo momento utilizzare un Domino 8.5.1 per il semplice motivo che Quicker usa molto Dojo e dall'8.5.1 in avanti la versione di Dojo è cambiata e Quicker non starebbe più in piedi. Lotus Live di quest'anno hanno presentato finalmente qualche novità, quindi IBM ci ha raccontato qualcosa di nuovo, si parla di fine 2012, probabilmente sarà il 2013. Ha dato dei temi sui quali pensa di intervenire, sui quali pensa di continuare a sviluppare il prodotto. Per chi è che usa già Quicker o perlomeno lo ha installato una volta o lo ha intravisto? Diciamo che Quicker lavora con Plays, i Plays hanno un template un po' simile al discorso dei database Lotus e del relativo template, la parte chiamata Plays for Teams verrà rinnovata, verranno aggiunte funzionalità e pensano di trasportare quella che era la visione IBM Vulcan, l'anno scorso ne abbiamo sentito parlare o forse due anni fa, non mi ricordo, era l'anno scorso. Questa nuova visione che aveva IBM della comunicazione pensano di trasportarla all'interno del prodotto, di renderla attuale e tutto questo in una logica di social che ormai... Allora, non sono completamente allineate, dipende cosa intendiamo con indietro. Hanno funzionalità differenti, diciamo che le due, avendo sotto due motori differenti, permettono una scalabilità intanto differente rispetto al prodotto Domino e al prodotto WebSphere e non tutte le funzionalità credo che fossero allineate alla 8.2 come funzionalità a livello di prodotto. Poi Domino con l'auto 5 è andato avanti e su WebSphere diciamo che ci sono delle possibilità che non ci sono su Domino, come la personalizzazione dei documenti, dei campi, cosa che su Domino e sulla parte Quicker for Domino non è così estesa e così personalizzabile e mancano delle funzionalità che invece sono presenti sulla parte Domino. Non le conosco a memoria perché principalmente lavoro sul prodotto di qua. Ricordo nella roadmap che aveva fatto IBM che le aveva allineate alla 8.2. Quindi sicuramente la versione 8.2 aveva le stesse funzionalità Domino e WebSphere. Dal di lì in avanti non so quale cambiamento abbiano fatto lato WebSphere, mentre conosco meglio. Non conosco nuove release della parte, non credo neanche ci sia la 8.5 per quello che mi ricordo. Queste informazioni riguardano la parte for Domino. Non so se siano attuabili anche per la parte WebSphere. Sono sicuro che sono argomenti che riguardavano la parte di Domino. C'è stato reso pubblico anche un minimo di interfaccia che IBM ha ulteriormente semplificato, meno colori. Questa è la parte che ci viene presentata al lato dell'accesso di QuickPlace. Abbiamo sulla parte di sinistra una nuova funzionalità che è il concetto di following, quello che ormai va di moda in qualsiasi cosa. È stato portato anche all'interno dei place, quindi io posso decidere di seguire un place. I place che io seguo verranno messi in evidenza sul menu di sinistra. I place a cui ho accesso sono nella parte centrale. Ovviamente questa è stata resa pubblica al Lotus Live, al Lotus WebSphere. Non è detto che IBM, come c'è scritto in bassa destra, poi la mantenga. Però questo è quello che ci è stato presentato. mentre questo è il place, quindi il famoso place di tipo team. Riveduto è corretto. Abbiamo sempre sulla parte sinistra il menu, nella parte centrale lo svolgimento e tutti i contenuti. Abbiamo nella parte alta, quello di cui vi evidenziavo prima, la possibilità di fare il following, qua. e nella parte bassa finalmente è stato integrato con la parte di proxy same time. Quindi nella versione 8.5 avremo la necessità di utilizzare il proxy server di same time per poter far colloquiare le due piattaforme. Quindi sostanzialmente, riassumendo, social, dove con social non intendiamo l'aspetto ludico. La cosa importante è quella di riuscire a rendere il prodotto sempre più fruibile ed inteso come un luogo in cui cercare e condividere conoscenza. Quindi social da questo punto di vista qui. Finalmente potremmo aggiornare le nostre piattaforme, quindi non sarà più necessario avere il limite della versione di Dojo, ma potremmo finalmente fare l'aggiornamento same time proxy e Vulkan. Vedremo come, non ci sono troppe informazioni di come vogliono implementare la logica di Vulkan, però sembra che sarà il prodotto che poi riuscirà a portare nella realtà quello che avevano presentato come un progetto l'anno scorso e come una rivoluzione nella parte di comunicazione. Finalmente si sono anche resi conto che è necessario affrontare e personalizzare quello che è il mondo dei dispositivi mobili. Ormai ognuno ha un iPhone, ognuno ha uno smartphone, ognuno ha un tablet. Rendere i contenuti accessibili dovunque mi trovo è una richiesta di qualsiasi azienda. Hanno finalmente creato dei template che mi permettono di consultare sempre online il mio place da un dispositivo in questo caso vediamo un dispositivo Android specialmente perché è menzionata una funzionalità che per sistemi operativi che non sono Android non è permessa. Ad esempio la possibilità di fare upload i documenti su iOS non è permessa o meglio nella versione 6 sarà permessa ma potrò caricare fotografie quindi in realtà è abbastanza riduttiva per quello che può essere un lavoro aziendale. mentre ovviamente sulla parte Android la cosa è meno limitativa e potrò caricare anche documenti vedere il calendario gestire tutto il workflow che è impostabile e quindi sostanzialmente riuscire ad utilizzare appieno quelle che sono le funzionalità che con un normale browser e con un normale PC posso utilizzare. L'installazione è abbastanza semplice non richiede particolari conoscenze diciamo che la cosa più importante è lo devo fare con un server domino già operativo quindi devo aver già installato l'autos domino non superiore a un 8.5.1 io di solito uso il fix pack 5 ma credo che fino al 12 la cosa sia attuabile lo trovate su tutti gli ambienti quindi Linux Windows AX e AS400 alcune cose da tenere in considerazione nel momento in cui lo vado a installare durante l'installazione mi chiedo di inserire un utente ed una password non dimenticatevela perché è l'utente amministrativo del place è quello che mi permetterà la prima amministrazione quindi è indispensabile segnarselo e non perderlo poi è ci sono procedimenti per riuscire a riprenderlo l'utente è comunque segnato nel nos.ini la password è crittografata ma si può recuperare però diciamo che è un'informazione abbastanza sensibile il prodotto può integrarsi sia con la domino directory quindi utilizzare la nostra classica names come autenticazione degli utenti piuttosto che con un server led up quindi active directory piuttosto che web sphere c'erano delle limitazioni con l'integrazione con same time sono state superate con la 8.5 una volta nella versione 8.2 dovevo per forza avere same time e quick interfacciati tramite un led up server per poter gestire l'autenticazione con la 8.5 è stata possibile invece anche l'autenticazione tramite domino directory altra cosa importante è quick place usa delle servlet quindi è indispensabile che il motore servlet di domino sia attivo diciamo che l'interazione client passa spesso e volentieri da servlet per poter recuperare i dati di una cartella i dati del menu di conseguenza se è disabilitato il classico è vedersi dopo l'installazione la schermata completamente bianca andate a vedere nella names e verificate se la parte di domino servlet è abilitata diciamo che l'avete già visto però sostanzialmente questo è quello che si presenta in classiche prove in classichi place questo è quello che andremo a vedere oggi e a personalizzare oggi nell'arco della nostra sessione vediamo un po' più da vicino una volta che abbiamo installato il prodotto che cosa ci troviamo con che cosa ci troviamo a lavorare Quicker fisicamente è un add-in del server http quindi sostanzialmente nella console una volta che lo abbiamo lanciato stavo rischiando la scorsa una volta che lo abbiamo lanciato ci troviamo all'interno della console una riga che ci conferma che è stato caricato correttamente e anche che ci dice la release in questo caso siamo a una fix pack 12 in maniera tale che ho chiaro quello che in questo momento ho attivo se faccio uno show task ovviamente non lo vedo vedo solo l'http se faccio se butto giù il server l'http lo ritiro su ho notizie di Quicker usa il motore servlet l'abbiamo già visto Quiker è comunque basato su degli NSF quindi ritorniamo al tradizionale che poi vengono utilizzati da quell'infrastruttura servlet dal plugin che viene caricato nell'http ma che comunque NSF sono questo è fisicamente un database Quicker quando io creo un nuovo place sono tre i database NSF che mi vengono creati viene creata una directory con il nome del place all'interno della directory io mi trovo un main.nsf che è quello che ci interessa maggiormente un contact.nsf e un search.nsf diciamo che contact e search ci servono relativamente il contact più che altro è utile nel momento in cui vengono creati degli utenti abilitati solo all'accesso al place nel momento in cui io creo un place e lo ho integrato con la domino directory o con un server led up ho la possibilità di aggiungere o togliere utenti la parte di aggiungere utenti mi permette di selezionarli dal server led up nel momento in cui eventualmente ne dovesse creare dei nuovi posso scegliere se questi vengono visti perché creati nella names da tutti i place piuttosto che visti solo da quel place e quindi vengono creati nel contact .nsf e gestiti semplicemente lì la parte di autenticazione viene gestita da quel plugin dell'http server che abbiamo visto prima entrare in funzione questi sono tutti documenti ognuno ha vedete h underscore forma h underscore skin troveremo degli h underscore field degli h skin group questi sono i temi dopo li vediamo se entro mentre sono posizionato nella directory qdk è importante perché altrimenti il form non viene riconosciuto non mi viene aperto con un form di default o qualche informazione in più sulla tipologia del documento serie di informazioni che in questo momento sono poco chiare ma che mi permettono di identificare quel singolo documento di andarlo a lavorare di capire se è pubblicato o meno di capire se fa parte del menu che in gergo si chiama toc e che quindi mi permette con facilità anche di interagire con il mio server quick con la tecnologia tradizionale quindi io posso usare agenti posso copiarci dentro dei documenti con un semplice copy and call poi modificandoli e aggiungendoli tutti quelli che sono quei campi che invece qui c'è la necessità di avere e che poi riconosce cosa che reputo importante non tutta quella che era la mia conoscenza non la devo buttare via è un ottimo bagaglio culturale sul quale puoi costruire l'integrazione con le vecchie procedure per pubblicare informazioni su su quick vabbè prodotto web 2.0 l'abbiamo detto quindi sostanzialmente quando interagiamo con un sito quick cosa che non vedevamo con la versione 8.0 e tantomeno con la parte quick place a ogni interazione dovevo interagire con il server quindi facevo dei cambiamenti lato client li mandavo al server il server mi rispondeva e tutto questo meccanismo andava avanti e indietro e ovviamente le performance erano di un certo tipo con l'introduzione della 8.5 sostanzialmente questa cosa è cambiata completamente sfruttando dojo sfruttando ajax sfruttando quel framework che io non non ho mai e specialmente introducendo widget ho la possibilità di interagire in maniera sincrona con i server con il server domino che sostanzialmente mi mette a disposizione una serie di informazioni che poi vengono elaborate dai widget e presentate dal punto di vista grafico per poter personalizzare qui è indispensabile sapersi muovere correttamente con javascript con dojo ovviamente con il framework innominabile e è possibile interfacciarci con qui anche con strumenti esterni sia perché qui mi mette a disposizione dei web services quindi a questo punto mi apre un mondo verso qualsiasi tipologia di linguaggio e sia perché posso interagirsi con servizi di tipo rest xml va bene l'abbiamo installato abbiamo un po' capito quello che ci sta davanti e dietro alcune cose da tenere in mente per riuscire a entrare sempre di più nella personalizzazione di quella che è sostanzialmente la parte all'interfaccia di quick al lato dell'installazione dentro la directory domino ci troviamo una bella directory che si chiama qphtml quickplace html mantenuta dai tempi all'interno di questa directory ci troviamo tutta una serie di informazioni a noi interessano particolarmente quelle che sono contenute nella directory widget qui dentro fisicamente ci troviamo poi i sorgenti di tutto quello che qui ci mette a disposizione e altra cosa da tenere a mente e con la quale poi abitualmente si lavorerà una serie di file che a questa volta invece si trovano sotto widget resource che mi permettono di personalizzare tutti i widget che vengono utilizzati con dei miei widget assolutamente creati apposta perché seguono delle mie logiche applicative non ho fatto nessun tipo di riferimento se andate a prendere la presentazione dell'anno scorso ci sono i nomi dei file ci sono tutte quelle informazioni che in questa presentazione non sono stato a rimettervi dentro la directory widget ci troviamo tutta questa bella struttura di file e directory diciamo che possiamo dire che ci stiamo ci troveremo a lavorare con degli oggetti simili a delle classi che possono creare delle classi nuove e derivate e che mi possono permettere di personalizzare sempre di più quello che è il lavoro che voglio che dal punto di vista grafico venga preso in considerazione quello che abbiamo visto prima il place che vi ho fatto vedere prima sostanzialmente può essere così riassunto tutta una serie di widget mi permettono di ottenere il risultato grafico che abbiamo visto ad esempio il view talk è quell'oggetto che si prende la parte di menu e me la rende visibile sulla parte di sinistra il view library che a sua volta viene richiamato da un altro widget che qui non è menzionato ma poco importa è un widget che viene richiamato nel momento in cui io sul menu di sinistra ho cliccato su un oggetto di tipo library se cliccassi su un oggetto un documento singolo vedrei un oggetto di tipo page view.page in questa maniera ogni parte grafica può essere poi personalizzata l'action bar quindi sono widget che vengono richiamati da quello che è il collante ovvero questo modo di posizionare i widget e quindi di ottenere la parte grafica viene regolamentato da un file html non so se avete mai provato a personalizzare i temi o a lavorarci un attimino innanzitutto serve per forza internet explorer mi sono dovuto fare una macchina virtuale perché altrimenti col cavolo che il tema lo potevo personalizzare internet explorer for me si for me di internet explorer io in questo momento ho la 7 credo quindi dalla 7 in su no ho la 8 si credo che la 7 e la 8 siano sicuramente supportate la 9 non l'ho provata mi sono fermato a xp non ho voluto andare oltre ecco la reazione giusto per farvi vedere da dove è possibile fare questa operazione temi personalizzati quindi tastino personalizza temi personalizzati e qui posso creare un tema ne apro uno di quelli che ho già creato allora intanto qui mi richiede una serie di file che attualmente non sono più necessarie nel senso che sulla 8 e sulla 8.2 dovrebbero dovrebbero ancora avere un solo significato sulla 8.5 sicuramente no in base all'operazione che sto facendo quindi in questo caso se sono in edit in questo caso se sto visualizzando un documento in questo caso per aggiungere un foglio di stile in questo caso se sto vedendo la cartella avevo la possibilità di far conoscere a quick tramite un file html come doveva posizionare quelli che una volta non erano widget i widget sono stati introdotti fisicamente con la 8.5 una volta si chiamavano skin erano componenti questi componenti venivano elaborati lato server da quell'oggetto da quell'estensione dell'http server tradotti in codice e mandati al client adesso non succede più così non ci sono più gli skin intanto l'unico file che mi serve è questo layout pagina gli altri me li richiede ma in teoria non vengono presi in considerazione e è quello l'unico file che mi permette di decidere come lavorerà il mio tema e il mio il mio place ritorniamo vi faccio vedere il tema standard anche perché credo che perlomeno questo mi è capitato a me è il punto da quale provare a iniziare per cercare di capire com'è possibile utilizzare e far visionare far rendere presentare i dati di qui in una maniera differente magari utilizzando framework utili nell'ambiente mobile sencia piuttosto che jquery giusto per fare degli esempi introducendoli all'interno di questo file in maniera tale che poi tutto il mio place si ragioni di conseguenza del file ci sono due cose da prendere in considerazione la prima la parte banalmente html dopo ci guardiamo ancora meglio tutto il file è composto da div vedete div id 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 questi div mi permettono di decidere la struttura come deve essere presentato ci sono dei div che sono un po' più particolari non so se è italiano o meno però che contengono anche di questi oggetti dojo type e il nome di un widget sostanzialmente il parsing dojo sostituirà quella parte di div con il codice html che quella particolare classe gestisce e decide che deve con la quale decide deve presentare i dati all'utente quindi è importante a per poter iniziare iniziare a modificare magari banalmente i frame ne tolgo qualcuno e vedo come reagisce in seconda battuta iniziare a capire che widget sta utilizzando quicker perché li sta utilizzando che cosa fanno per cercare poi in un secondo momento di personalizzarli di tutti questi due più importanti sono sicuramente gli ultimi due il talk e il content controller il talk è il menu di sinistra quindi quello che mi permette di vedere le voci in prima battuta il content controller è quello che gestisce fisicamente la pubblicazione quindi se sto vedendo un folder è quello che poi a sua volta capisce che è un folder capisce che deve richiamare il widget che mi fa vedere il folder e accatena fino ad arrivare alla visualizzazione completa quindi sostanzialmente il view library in realtà è stato chiamato dal content il quale ha capito che stavo cercando di vedere l'oggetto library e a sua volta in cascata il library ha utilizzato tutta l'altra serie di componenti fino a che dal punto di vista grafico non si è composto questo risultato proviamo a fare qualcosa di complicato cioè di complicato proviamo a iniziare a cambiare quello che è l'aspetto del mio place bootstrap di twitter è un case è un framework non so come chiamarlo comunque sostanzialmente è una serie di funzionalità javascript che mi mette a disposizione twitter per poter fare un sito fatto in una certa maniera cioè più o meno questo questo è un file preso dalla documentazione del framework io provo tento cerco di fare questo sostanzialmente è lo stesso place che abbiamo visto prima mi sono impegnato poco nel senso che potevo togliere i pallini ma ieri sera era tardi non ce l'ho fatto no dov'è il personalizza sì ma il personalizza ci deve essere mi tocca andare su wind sì è che non riesco a scordare capito allora cambio il tema questo lo posso fare anche con firefox quindi non gli posso caricare un tema nuovo ma fortunatamente posso scegliere di cambiare il tema del mio place il risultato è questo quindi i contenuti sono gli stessi ho cambiato gli oggetti che mi mi fanno ottenere il layout ho cambiato qualche div ho cambiato qualche widget e il risultato è questo aspettatevi di dover combattere con i CSS i fogli di stile i puntini sostanzialmente dipendono da quello però questo modo di affrontare la personalizzazione mi permette sostanzialmente di riuscire a interagire con Quicker e a presentarlo sostanzialmente come voglio devo stare attento ad alcune cose nel senso che comunque Quicker ha necessità di caricare determinate le sue funzionalità le sue classi quindi devo mantenerle becchiamo il file in questione è questo quindi sostanzialmente sono partito dal page punto html sono partito da questo file che banalmente è il sorgente di quella di quella parte di esempio che abbiamo visto prima di vedere l'immagine di Quicker e con l'arte del copio-incolla ho iniziato a mescolare le due cose e quindi ad esempio ho caricato una serie di ho continuato a caricare una serie di classi che sono queste utili a Quicker non le posso togliere gli servono ho continuato a lanciare una serie di funzioni nuovamente utili a Quicker le devo mantenere servono a caricare tutta quella che è una serie di infrastrutture utili sono su ad esempio l'OAD ST-Link che è tutta la parte javascript che si occupa di caricare i componenti che poi dovranno gestire l'eventuale comunicazione con SamTime sono costretto a mantenere una serie di frame fatti in una certa modo cioè per capirci meglio questo Lotus Content così lo devo chiamare e così deve essere l'oggetto che si occupa di creare il contenuto comunque lo crea all'interno di questo div questo div da qualche parte ci deve essere altrimenti non vedo un bel niente in questo caso vabbè in fondo al sorgente ci sono tutte le classi utili al tema la parte sotto in realtà è un taglia che non ho fatto nel tema originale non c'è nel tema quello caricato non c'è e ho utilizzato anche adesso li vado a cercare degli oggetti personalizzati che non so perché non trovo sostanzialmente ho personalizzato due widget in modo tale che facciano il mestiere che a me serve ho personalizzato i widget del menu di sinistra perché il menu di sinistra doveva avere dei riferimenti a dei diva delle classi di stile particolari per poter essere visto con la tecnologia javascript che stava dietro al framework di twitter e ho personalizzato la parte di login logout che banalmente è questa qua in maniera tale che mi venga visualizzata con quella particolare con quel particolare aspetto grafico del tema del bootstrap di twitter che ho utilizzato vediamo ok questo ad esempio è il TOC e adesso vediamo come e che cosa ho fatto l'ho già nominata l'arte del copy-in-colla mi ha aiutato banalmente come primo inizio sono partito dai file originali quindi quei file che già mi permettevano di ottenere quell'aspetto grafico che abbiamo visto nel tema originale ah una cosa esiste una fantastica funzione che purtroppo ho scoperto solo dopo però se vi trovate a combattere con dei temi vi spariranno sicuramente i tasti fondamentali ad esempio il personalizza io qui non glielo ho messo quindi una volta che ho trovato il tema se non ho il modo di tornare indietro col cavolo che riesco a cambiarlo e fortunatamente nell'auto 5 in uno dei fix pack dell'auto 5 hanno reso disponibile quella fantastica cosa che probabilmente avete intravisto main NSF se lo lancio con l'open database e commerciale reset them mi resetta al tema originale e ho fatto errori nel mio tema che stavo provando sono tornati indietro e riparto se non arrivo più ad avere il personalizza non arrivo più a cambiare niente devo andare sulla parte NSF che fortunatamente esiste e lì muovermi lì ho nei documenti il tema che viene usato c'è un documento che si chiama settings lo cambio infatti facevo così solo che dovevi interagire con un agente questo è estremamente più immediato fa la stessa cosa però almeno lo fa con un agente lo fa in maniera immediata e quindi è molto più applicabile e se vi trovate a combattere con i temi vi troverete sicuramente nella condizione di fare un qualche cosa che non va propriamente bene al primo colpo e dovrà essere cambiata e allora in quella struttura di file che vi facevo vedere prima possiamo andarla a riprendere un attimo poi ci rimuoviamo lì davanti nella parte view ho due file un toc.js che è una libreria javascript e un toc.xsl che invece è un un xml di trasformazione non so ho un foglio di xsl o xs mi sbaglio sempre si comunque sostanzialmente è un altro file xml che passato ad un parser passato ad un file xml che contiene i dati mi permette di ottenere un risultato che è una somma delle due iterazioni il view il componente toc in questo caso interagisce proprio in questa maniera cioè c'è una classe javascript che è quella che vi stavo facendo vedere che ad un certo punto interagisce con la servlet famosa una servlet famosa di cui prima vi parlavo non ricordo ma dovrebbe essere questa sostanzialmente questa servlet si va a prendere dal database nsf tutti quei documenti che sono stati identificati come in toc in toc uguale a 1 c'è un fantastico campo e vengono passati come file xml a questo file javascript a questo file javascript viene anche passato in input tra virgolette questo toc punto xsl che dovrei avere qui ma se non ce lo lo carichiamo giusto per farvi vedere com'è fatto l'insieme di questi due oggetti quindi xml uguale dati xsl uguale linguaggio di trasformazione mi permette di ottenere banalmente il l'html che poi viene sparato sul div che si chiama lotus content e che no in questo caso è il toc il div si chiama in un'altra maniera comunque sostanzialmente nel div che poi mi rappresenta il mio oggetto di menu in questo caso visto che tutto il lavoro viene fatto dalla parte xsl che mi sembrava di aver aperto ma che non ho aperto e che quindi andiamo ad aprire widget vabbè me lo aprirà con qualche cosa ci metterà un po' sostanzialmente tutta questa parte xml mi permette di capire alla fine come il codice html viene interpretato e viene realizzato e quale sarà il risultato finale faccio così che faccio prima anche se bastardo bastardo chiamalo xml o html adesso non si vede non ha fatto l'interpretazione del linguaggio non è particolarmente leggibile però sostanzialmente questo è il file xml che interpreta è il file sì comunque xml che interpreta il file xml letto per il contenuto del talk che ad esempio fa apparire l'icona in base al contenuto dell'eventuale allegato che si trova nel documento che ho voluto mettere nel menu insomma fa tutta una serie di considerazioni che applica degli stili ad ogni componente che poi va a rappresentare dal punto di vista html che mi permettono di ottenere questo il risultato di prima adesso non lo cambio perché poi voglio fare un altro un altro passaggio quindi sostanzialmente per poter riuscire a personalizzare quella che è l'interfaccia di Quickr la cosa il passaggio indispensabile è editare il tema principale il tema principale ve lo trovate comunque all'interno della directory qp html c'è una directory che si chiama skin dietro alla directory skin c'è una che si chiama Quickr lì c'è il fantomatico page.htm che potete utilizzare e iniziare a personalizzare altrimenti è embedded in qualsiasi Quickplace che create ma è molto più complicato da tirare fuori abbiamo parlato di widget ne abbiamo personalizzato uno fra l'altro ne abbiamo visto uno particolare sostanzialmente vi trovate quattro tipologie di widget all'interno di tutti quelli che sono stati creati da IBM widget che interagiscono condominio e che non lo fanno widget che interagiscono con un linguaggio di trasformazione XSL o widget che magari leggono ma non interagiscono presentano direttamente un output dopo ne vedremo un esempio questa sostanzialmente ve l'ho già detta ma non sto a ripeterla widget componenti che creano la parte di interfaccia gli skin ve li trovate nei temi vecchi quindi se vi trovate un tema con skin quick place component mi sembra ricordare è un qualche cosa che sull'auto 5 probabilmente funziona anche in parte nel senso che tutti quei componenti skin che venivano riconosciuti dall'auto 2 indietro sulla auto 5 non vengono riconosciuti tutti completamente quindi può esserci qualcosa che non non viene presentato a dovere parliamo di mobile proviamo a continuare ancora a personalizzarla questa interfaccia ve la volevo far vedere sull'iPad ma oggi il videoproiettore non va sostanzialmente abbiamo personalizzato lo stesso page htm abbiamo utilizzato tecnologia jQuery e abbiamo ottenuto questo tipo di risultato è ancora comunque un qualcosa di online che utilizza solo le componenti come dire native della parte ios e che mi permette di costruire un'interfaccia che può essere assimilata a quella che è un'applicazione anche se in realtà è no abbiamo utilizzato la tecnologia jQuery solo per presentare abbiamo aggiunto a quella tecnologia che è stata usata nei widget la parte jQuery poi solo per la presentazione la seconda no la prima si coesistono senza problemi no per un banale discorso di compatibilità di versioni non è semplice dal di qui anche la necessità che venga fatto un aggiornamento nel senso che la 1.3.6 non so quanto abbia ma ne ha e questo genera complicazioni poi nell'utilizzare quelli che sono ulteriori framework e possono andare in conflitto con quella versione di Doge quindi o usi versioni più vecchie anche di jQuery magari ti permettono di avere meno incompatibilità oppure alcune cose non riesci a fare in questo momento non le riesci a fare e per farvi vedere la parte che riguarda l'iPad banalmente dal punto di vista della presentazione poco cambia nel senso che comunque ci troviamo a combattere con un file HTML sostanzialmente con dei div ci troviamo ad aver personalizzato dei dei widget in questo caso abbiamo personalizzato la parte del menu che è quella che maggiormente sulla quale maggiormente ci siamo concentrati che in questo caso viene creata da questo qipad.widget.view.talk e abbiamo lasciato assolutamente invariata il widget che si occupa di mostrarmi il contenuto in realtà abbiamo cambiato qualche cosa all'interno ma sostanzialmente è il widget originale questo per sottolineare il fatto che è possibile ad esempio in iOS adesso mi concentro un attimo su quel tipo di mondo riuscire a fare un qualche cosa che perlomeno dal punto di vista della presentazione possa essere passabile per quello che è un applicativo però ho delle limitazioni in questo mondo è un mondo attuale assolutamente ormai entrato in molte aziende specialmente l'iPad è uno strumento che ha preso molto piede e l'offline sono due temi che in tutto quello che abbiamo visto continuano a costare un po' quindi per quello che è un'ottica mobile sicuramente lavorare sul tema mi permette di rendere da un punto di vista della presentazione il tema di Quicker più abbordabile continuo ad avere delle limitazioni a volte limitate al singolo sistema operativo l'upload a volte limitate a tutti l'offline scusate non lo riesco ad ottenere neanche sulla parte di Android sono usciti degli strumenti che mi permettono di riuscire a fare qualche cosa invece anche sulla parte offline non rivolto ad avere completamente un place offline ma perlomeno posso avere quelli che sono i contenuti del place quindi gli allegati probabilmente le informazioni che mi interessano di più disponibili ad un'interrogazione offline non mi interessa tanto il prodotto che vi sto facendo vedere Goodreader è una cosa che ho trovato utile la uso ma quello che mi interessa di più è la parte di destra Goodreader è un applicativo che trovate sull'App Store è un applicativo che mi permette di caricare sul mio iPad dei documenti provenienti da fonti chiamiamole così dati disparate ad esempio Dropbox conoscete sì il mio Mac piuttosto che Quicker come faccio a raggiungere Quicker non tanto perché Goodreader ha un plugin particolare per Quicker no ma perché esiste un prodotto che mi permette di raggiungere mi fa raggiungere un place tutta un'installazione Quicker tramite il protocollo webdav Goodreader mi permette di poter andare a pescare informazioni da server webdav se clicco sul connect to server Quicker tramite la parte webdav riesco a vedere tutti quei place che vediamo se vi riesco a far rivedere di nuovo dall'ì qui sto puntando allo stesso server quindi questi sono i place che la mia utenza può vedere questi sono i place che avendo ovviamente nella parte di configurazione il mio utente e la mia password che questo oggetto mi riesce a mostrare ho selezionato un place che è il D12 quello che vedevamo prima ne vedo i contenuti unica considerazione da fare vedo i contenuti che hanno un allegato non vedo i contenuti cioè un documento che contiene solo del testo che ho inserito lì dentro qui non viene visualizzato vedo i contenuti e quindi mi può essere utile nel momento in cui voglio distribuire tramite Quicker dei documenti della documentazione a un parco di commerciali a un parco di tecnici comunque a qualcuno che sta all'esterno con questo strumento posso riuscire a caricarli alla necessità nel senso che questo mi discarica sul componente poi il componente se ho il relativo visualizzatore me lo fa vedere Goodreader ha una caratteristica che trovo anche abbastanza carina che è quella di poter sincronizzare delle cartelle quindi adesso qua non lo vediamo ma andiamo solo no non ho la slide posso decidere di sincronizzare una cartella di Quicker con il mio ambiente locale quindi ogni qual volta faccio delle modifiche posso decidere se le modifiche locali vengono trasferite in remoto se solo quelle da remoto vengono trasferite in locali insomma ho possibilità di decidere la bidirezionalità o meno ogni qual volta vado a fare l'operazione di sincronizzazione tutto quello che c'è di nuovo mi viene scaricato tutto quello che ho caricato di nuovo mi viene uploadato e le differenze eventualmente cancellate se volete provare il prodotto in questione è un prodotto di un'azienda olandese LIA LIS è gratuito per uso personale quindi potete scaricarlo potete farlo parlare con un server quick ovviamente richiede un'installazione lato server vi verrà scaricato un NSF che farà tutto il lavoro sporco chiamiamolo così e vi verrà recapitata via mail una licenza la caricate da quel momento in avanti avete accesso all'installazione quick tramite il protocollo webdav ovviamente è anche licenziabile per più utenti ma a quel punto si entra in un ambito a pagamento questa è qui ma non ci deve essere è stato un copy in colla fatto male giusto per darvi una visione diciamo che il Goodreader è un ottimo prodotto che vi può servire nel momento in cui avete necessità di interagire e scaricare questo è un altro prodotto che credevo fosse gratuito in realtà avendolo già comprato due anni fa non me ne accorgo più in realtà mi dicono che adesso è a pagamento 7,99 quindi era qui per dirvi anche esiste un prodotto gratuito che vi dà la possibilità di interagire solo in una direzione con quick e quindi di inventariare il server quick e poi iniziare a fare lo stesso lavoro che facevo con l'altro componente cioè vedermi tutti i place che potevo vedere entrare all'interno di un place fino ad arrivare a scaricare il file e a eventualmente aprirlo con un relativo visualizzatore interno se ce ne fosse 7,99 euro non è più a pagamento quindi l'ottica con la quale la volevo pubblicizzare non è più tiro le somme nel senso che il mio obiettivo di oggi era quello di riuscire a trasmettervi una qualche visione per cercare di trovare una strada da poter percorrere per riuscire a personalizzare quick e a renderlo dal punto di vista di lock and fill un qualche cosa più diciamo che il template standard è standard si chiama standard per un motivo e a volte lascia anche solo per la banalità di dover mettere il logo insomma degli interventi vanno sempre fatti è chiaro che inserire il logo diventa abbastanza semplice nell'ottica che abbiamo visto oggi riuscire a muoversi e a introdurre eventualmente anche dei framework differenti può essere un po' più complicato ma almeno la strada è quella non che sia semplice ma gli sponsor perché altrimenti rischio di essere bacchettato anche se non vedo nessuno grazie ah se non l'ho visto bisogna a proposito di bisogna stare attenti io ho finito allora io ho intravisto un bel sdk una serie di oggetti utilizzabili direttamente dall'xpage la nuova versione non sarà con xpage per quello che mi dicono non sarà xpage c'era chi sosteneva che sarebbe uscito questo fantastico pacchetto che mi avrebbe dato la possibilità di personalizzare a questo punto il place o utilizzare i dati del place direttamente da xpage che andavo a personalizzare però l'anno scorso credo di averne fatto anche menzione quest'anno non ho sentito nessuna informazione a riguardo può essere che i futuri prodotti vadano verso quella direzione lì anche perché diciamo che in questo momento tutta la parte che sta dietro alla costruzione della parte utente stona con tutto il resto quindi ci sta però indicazioni in questo senso io non ne ho sentite allora avendo a disposizione ma adesso mi sembra che nell'ambito del project book il software o sono di quelli più avanti perché è già disponibile il resto già da sì da tempo da tempo in realtà è già utilizzabile tranquillamente con l'Xpage vuoi perché puoi interagire con dei web services vuoi perché vuoi interagire con la parte rest vuoi perché esiste il bellissimo read view entry con il quale puoi leggere qualsiasi informazione è chiaro che a un certo punto perdi l'utilità di quello che era il back end di Quikre con il quale è stato pensato però assolutamente da un punto di vista di interazione e di lettura dei dati posso fare tranquillamente dell'Xpage che vanno a leggere e poi mi costruisco la cosa insomma forse un po' più delicata è la parte di autenticazione ma la relativa una volta che si fa un single sign on su più server a quel punto grossi problemi non ne vedo ci ho provato ma non è troppo bisognerebbe riuscire ad avere una visione completa di come funzionano tutti i componenti ma è complicata già è stata divertente quando abbiamo iniziato ho anche provato per vedere di riuscire ad aggiornare la parte di domino ma è troppo complesso specialmente perché comunque il componente che sta all'interno dell'Http qualcosa fa dicono che ne faccia sempre meno ed è vero ma qualcosa fa è quel qualcosa che mi frega probabilmente ci ho provato non mi mancano i sorgenti in realtà è in grado di riconoscerlo perché a quel punto potendo ragionare su classi javascript io il risultato ce l'ho già posso fare in modo che il tema ragioni anche in base al dispositivo che lo sta interrogando per assurdità noi stiamo provando a fare un tema che è un div è una classe è un widget che poi a sua volta si occupa di fare tutto il resto si è assolutamente utilizzabile e proibile in questo modo in maniera tale che se ho un dispositivo mobile mi faccio vedere in una maniera se ho un client un browser da un pc lo faccio in un altro basta io ho finito fino a un minuto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti